Parco Dio! Ascolta, dammi i soldi, dai! No, 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 dammi i soldi! Oh, è in campo aperto, mi sa? Eh, Mino, lo colpi! No, è andata sotto? No, è andata sotto, è sotto! Oh, dammi sti cazze di soldi adesso! All'interno c'è lo shopping interno! Abbiamo quelli, ragazzi! Ok, bom, ciao! Adesso gli anche le armi! Vabbè, le morti! Eccolo il cieco ancora lì, eh! Mi sta puntando! Pacco, non sta a star lì, te coppa lì, Pacco! Vai via, cacchio, dalla mia suzza! Adesso è mia, adesso, è posizione! Beh, ma il Cobra è che era venuto a sud, però, dopo, eh! Le senza armi, il Cobra? Cobra, se ti gatti sotto il tipo... Perché te le sa le armi, giù un po'? E tanto, non cos'è, non ho colpi! Ancora più veloce! Ancora con la testa di merda! Sì, ma figata da venire dentro, che è un tipo chi sotto! Ma non ho colpi! Conta fino a 10! Ah, vabbè! Conta fino a 10! Sono c'è gli altri? Sì, saltati? Saltati! Saltero! Lascia a venire su, lascia a venire su! Non sta a far te vedere! Sono me, sono me, sono me! No, no, no! Ne maturano, non mi guardo le scale! Sono me! Mi sei fatto, che tu com'è? Mi sei fatto! Ma sbarrà, mi, Mary! Non è molo, non è molo! No, mi è scappato, scusa! Andrò a fare un po' del casin, comunque, eh! Cobra 5 kill! Un altro là, nella torretta! Mamma mia! Mi piace questo rumore! Mi piace questo rumore! È bellissimo! Comunque ce n'è uno lì, eh! Tutto ancora! Ma va, ragazzi, una HDR! Mi muovo! Per l'altra? È saltato, è saltato! Il gancicchino qua sulla destra, eh! Ozzo, che sento che sbara! E dove? Nel Zor Shop! No, no, no! Nel Zor Shop! Vole le bomb! Le bravo, anche! Dove? Dallo Shop? Però sta tirando adesso, eh! Quindi non sta mirando a voi! Guardali qui! In movimento! Guardali! Guardali! Eh, guardali! Sto tenendo la pia... La... Ma... Sto tenendo la scala! Guardali là sulla pinna! è andato Mary dammi una mano qua dietro l'albero aspetta arrivo quale parte sei da quella di viola il viola il pink viola era quello di prima questo qua non riesco mica mi è saltato giù è saltato giù occhio l'ho caraccato un po' ma è entrato andiamo qua vai guardatevi dall'altra eh raga qua qua dovete guardarvi questa io tengo sempre le scale delle due chi sotto a sinistra eh guarda che roba ne restano meno di dieci oh saltiamo lì sopra ragazzi perché ecco aspetta uccidete questo qui andato oh si hanno i 4 contro altri 4 eh non c'era nessuno no quegli altri sono sotto eh che aspettano mi riuscite a pingare c'è gente sotto che ti aspetta credo dov'è che sono qua 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 ragazzo dove 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 l'ho pingati l'ho pingati eh no sono casca giù sono casca giù uno terra no mi affattano che credo da dove da dove da dove sono là eh sono in due là uno terra uno no uno mi ha fatto male è vicino al bunker pensa al bunker al bunker al bunker si non poteve non vincerela questa eh puttee mamma se la meritavamo fa un misto video comunque o la Mary io sono caduto male anche a me a me mi ha fatto in volo io non ho scelto dove andare io ero lì che uccidevo uno che arriviamo sotto e su un cascafora no io sono rimasta io sono rimasta nel gas a fare le altre robe ragazzi e uccidere gli altri perché devo confermarli ma quanti danni abbiamo fatto più che altro abbastanza salvo io no buona Sì, 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 sì.